Arriva l'accelerazione sui pagamenti in favore di allevatori e agricoltori calabresi. Con distinti decreti, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura ha dato infatti il via libera alla liquidazione di diversi elenchi per un controvalore di oltre 8 milioni di euro. Si avviano finalmente a soluzione, commenta l'assessore regionale dell'agricoltura Gianluca Gallo, le problematiche che nelle ultime settimane avevano interessato il settore in particolare quanto ai pagamenti PAC, quelle legate alle necessità di allineamento ai sistemi AGEA, a loro volta interessati dall'obbligo di procedere all'ammissibilità delle domande solamente dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Come da impegni assunti con le organizzazioni di categoria e di comitati degli agricoltori, conclude Gallo, superate criticità in larga parte non riconducibili alla regione, si sta tornando passo dopo passo all'efficienza di sempre, garantendo certezze e tempestività. Intanto è stata già avviata ed è in corso a cura di Arcea la liquidazione di 5 milioni di euro a titolo di acconto per il benessere animale per l'annualità 2023. Inoltre sono oltre 2 milioni e 600 mila che sono in fase di erogazione, quale acconto per l'anno 2023 per l'integrato. Ad essi si aggiungono 1 milione e 200 mila euro per un nuovo e ulteriore elenco di beneficiari a titolo di acconto per il biologico 2023. Ad integrare il quadro, con un decreto già adottato e che andrà in pagamento agli inizi della prossima settimana, l'erogazione di altri 6 milioni per misure strutturali, per un totale di oltre 15 milioni di euro. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!